Sai una cosa? Trovo che tu sia diventata più carina. Sei fidanzata? Ecco, lo sapevo! Non appena ti ho guardata mi sono accorta immediatamente che avevi qualcosa di diverso! È la persona che è venuta ad accompagnarti qui poco fa, vero? Sì. E che cosa fa nella vita? Diciamo, il contabile. Bene, lavori con lui? Beh, in un certo senso, direi di sì. Che meraviglia! Sono felice tu abbia trovato qualcuno! Tesoro, hai sentito? Di qualcosa di bello alla nostra piccola? Buon per te. Ma come? Tutto qui? Retsuko è una ragazza per bene. Se lo ha scelto, sarà un bravo ragazzo. Lo è.